Zuccher è un'azienda che si occupa ormai da 25 anni di integrazione alimentare e cosmeceutica. Partiamo da molecole naturali per realizzare prodotti che si occupino della salute dei nostri appassionati consumatori. Lo facciamo in una maniera molto innovativa o meglio in modo particolarmente progettuale. Qui a Cosmo Pharma abbiamo deciso di lanciare qualche cosa di unico e abbiamo deciso di concentrarci su due grandi mondi. Il primo è quello della pelle e della cura della pelle, il secondo è quello della salute della linea del dimagrimento. Per quanto riguarda la pelle ci siamo accorti che negli ultimi anni sta crescendo, non direi che è nato, ma che sta crescendo un grande problema che è quello delle irritazioni, delle dermatiti atopiche da contatto che le persone riscontrano quasi quotidianamente con piccoli problemi che li affliggono. Questo ci siamo resi conto che non deriva principalmente dalla presenza eccessiva all'esterno nell'ambiente di contaminazioni batteriche o di sostanze che possano disturbarci o renderci diciamo generare questi disequilibri, quanto dalla incapacità della nostra pelle di sapersi proteggere correttamente. Forse o molto ragionevolmente a causa di un'eccessiva detersione che in qualche modo proponiamo la pelle tutti i giorni. Per fare questo abbiamo deciso di realizzare un progetto molto ambizioso che si chiama Pur Aseptic che non è altro che una linea cosmetica molto ben costruita e bilanciata che utilizza due grandi alleati, l'argento colloidale da un lato che proviene dal mondo minerale e il tea tree oil, l'olio essenziale di tea tree oil dell'albero del tè. Queste due sostanze in comune hanno una grandissima capacità di proteggere la pelle, renderla più forte e annientare tutti i suoi ospiti sgraditi che potrebbero provenire dall'esterno. La loro combinazione che è frutto di un brevetto realizzato da questa azienda permette di in qualche modo migliorare le caratteristiche protettive dell'intera linea per cui qualsiasi consumatore che cercherà d'ora in avanti una linea cosmetica di alta qualità che potrà offrirgli grande protezione e educare la sua pelle alla robustezza e in qualche modo la difesa potrà contare su questo nuovo grande importante progetto e marchio Pur Aseptic. Dall'altro lato il mondo del dimagrimento e della linea meritava un approfondimento ed una visione diversa, un accostamento diciamo in qualche modo filosofico diverso dall'attuale. abbiamo voluto sposare una scoperta che è stata fatta da un ricercatore inglese negli ultimi due anni, questa scoperta è l'identificazione di sostanze nobili chiamate sirtuine a un livello tale che le diete proposte attraverso l'assunzione di queste sirtuine si chiamano addirittura diete sirt. Queste sirtuine diciamo o sostanze che promuovono la creazione del gene magro sono delle sostanze rintracciabili in qualsiasi alimento in percentuali diverse, alcuni alimenti ne hanno molte e l'uso specifico di questi alimenti migliora, regolarizza e in qualche modo ottimizza il metabolismo di un individuo. Purtroppo nella nostra dieta quotidiana non sempre utilizziamo gli elementi che sono ricchi di sirtuine. Noi riteniamo che sia poco strategico continuare a fornire all'organismo sostanze nutritive, minerali, enzimi, vitamine, proteine addirittura e carboidrati se prima non abbiamo messo il nostro organismo a contatto con dei cibi ricchi di sirtuine e quindi ben educati a una gestione metabolica corretta. Per fare questo abbiamo dato luogo ad un'intera linea che preveda l'integrazione di alimenti ricchi di sirtuine all'interno della nostra dieta quotidiana. Yes Sirte potrà garantire questo.